lunedì 13 dicembre 2021 vi parlo dalla taverna degli artisti di via dell'artista a firenze dove si sta concludendo la cena degli artisti appuntamento del lunedì che ogni mese si raccoglie intorno alle iniziative di giuseppe pinzauti che da dieci anni ne è stato per dieci anni ne è stato l'organizzatore inizialmente l'ispiratore e con molta passione ma anche con grande impegno porta avanti questo questa rassegna di arte contemporanea che stasera si è caratterizzata per un'anomalia e direi un bel regalo di natale per quanti verranno alla taverna degli artisti per una colazione per un pranzo per una pizza per una cena perché una mostra rispetto alle precedenti che ha un filo rosso che lega tutte le opere perché l'autore è uno solo e per il contrariamente altre volte che erano due o più di due artisti ed è un fotografo e quindi anche come mostre fotografiche credo sia la prima in assoluto come mostra personale sì questa è la prima mostra fotografica a livello generale della taverna avevamo avuto altre volte dei fotografi che avevano portato delle opere però completamente in questo modo è la prima e sono molto contento perché è dal tempo che a vanni vannucci che è l'autore di queste opere quando lavoravi alla provincia di Firenze organizzato una sua mostra importante ricordala perché c'è un ricordo di quella mostra rappresentato da un catalogo che poi tutti i partecipanti a questa cena hanno potuto ritirare con vanni abbiamo organizzato quando era appunto in provincia nel 2010 anche lì una bellissima mostra fotografica sulla Bolivia che peraltro alcuni quadri sono qui anche stasera quindi sono contento che dopo tanto tempo è venuto qui alla taverna e ci ha prospettato ecco lo vediamo arrivare ora perché ovviamente siamo in conclusione di serata e le pubbliche relazioni vanno curate vanni perché stasera c'erano tutti i tuoi sostenitori gli ammiratori gli amici tutti i suoi fans e quindi una parte una parte modestamente una parte no mi ha fatto molto piacere perché come diciamo è stata una partecipazione molto variegata di persone conosciute in varie fasi della vita come le foto in fondo anche le foto sono state scattate in varie fasi della mia vita e allora spieghiamo la mostra è divisa in sezioni possiamo parlare due sezioni principali però con delle sottosezioni perché tu hai raffigurato i sud del mondo tanto magari motivaci questa scelta perché fra il ventaglio amplissimo di possibilità che si offrono a un fotografo tu hai scelto proprio di localizzare il tuo interesse il tuo obiettivo sui sud del mondo ma la fotografia e il viaggiare vanno molto a braccetto no per cui io sono sempre stato affascinato dai posti dove come ho scritto anche in quei quadretti sotto il titolo in cui diciamo il tempo un po' si è fermato e a me piace mi è sempre piaciuto andare a vedere questi luoghi i mercati la gente purtroppo anche questi contrasti della povertà sono luoghi difficili però hanno un grandissimo fascino luoghi dove purtroppo ora è molto 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 difficile andare sia per il problema del covid sia per motivi politici economici politici in particolare di questi paesi il tuo obiettivo è andato a soffermarsi soprattutto sui volti cosa cercavi te nei volti di questi bambini uomini e donne il volto è la testimonianza di un paese il volto ti dice tantissimo lo sguardo infatti diciamo la mostra l'ho intitolato sguardi dal sud del mondo questa parte diciamo in questa sala qui in cui ci sono varie abitanti di soprattutto Africa e Asia che appunto hanno questa diciamo umanità questo sorriso questo sguardo che ti trasmette cose che purtroppo nella nostra civiltà frettolosa l'abbiamo un po' persa perché si è andato a cercare questi volti e queste miserie lo possiamo anche dire nel sud del mondo quando tutti i paesi hanno un sud anche il nostro un sud non in senso geografico ma un sud inteso come emarginazione magari o borderline rispetto al cuore del mondo dove pulsa l'economia magari la ricchezza anche apparente però le sacche di povertà si trovano anche a un passo come a Shanghai dalla grande ricchezza a 100 metri dopo si va nel sono paesi dove contrasti l'India è un paese per esempio dove nella parte che ho intitolato India paese infinito dove ci sono stato otto volte ma bisognerebbe tornarci migliaia di volte è proprio un paese di contrasti tutti questi paesi posti sono paesi di contrasti dove non esiste una classe media come da noi esiste la ricchezza come l'indiano che è venuto a sposare la figlia qui ai Grandotè con 400 invitati e quelli come c'è in una foto scattata a Calcutta dove vivono sulla ferrovia sulle rotaie quando passa il treno si spostano e i bambini giocano tra le rotaie e poi quando passa il treno si spostano passato il treno ritornano non hanno niente 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 e questi sono i paesi però non lo so mi è sempre piaciuto andare fin da ragazzo qui ho con me in questa serata è venuto il mio carissimo amico collega anche con cui nel 70 siamo arrivati fino in Siria siamo sempre andati in questi posti un po' assutto tu hai voluto affiancare nelle varie sezioni dei testi anche poetici di alcuni autori anche fotografi come Henri Cartier-Bresson secondo me sarebbe più opportuno più che inquadrarli e lasciarli leggere che siccome sono anche brevi tu li leggessi in appendice di questo nostro servizio vorrei che Giuseppe Pinzauti ricordasse ai telespedatori la data della prima cena degli artisti del 2022 ovviamente sarà ancora rigorosamente di lunedì e quindi fin da ora fare gli auguri e invitare i nostri telespedatori interessati sia agli artisti sia a chi vuole passare una serata piacevole come sempre in questi dieci anni abbiamo passato ogni lunedì del mese alla taverna degli artisti di potersi prenotare per una partecipazione sì la prossima cena degli artisti appunto inizieremo il 2022 pertanto invito tutti chi è interessato a partecipare a mettersi in contatto con il sottoscritto e prenotare in anticipo come vedete ora quello in gergo si chiama sotto pancia vedete il numero di cellulare al quale potrete contattare Giuseppe Pinzauti per prenotare la vostra partecipazione volevo anche finire il servizio facendo gli auguri a tutti i nostri amici che ci stanno vedendo in televisione e anche a tutti quelli che per dieci anni hanno partecipato che sono stati sempre con noi tutti gli auguri per le prossime feste ogni viaggio che meriti di essere fatto è anche un viaggio nel tempo in secoli diversi persino in diverse idee di tempo i posti migliori sono quelli che confondono tutte le nostre certezze e ci offrono modi diversi di guardare al passato al futuro e anche al presente che prende forma intorno a noi e anche a tutti i nostri amici 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 Grazie.